Musica Mercoledì 31 ottobre, buongiorno Friuli e bentrovati in nostra compagnia in diretta anche questa mattina per dare un'occhiata assieme ai quotidiani oggi in edicola, c'è ancora il maltempo in primo piano e vediamo subito che permane una situazione di allerta in Friuli Venezia Giulia, ecco la cartina che troviamo sul sito dell'osservatorio meteorologico regionale, vediamo ancora allerta arancione in particolare nella zona di Pordenone nella provincia di Pordenone, poi vediamo invece allerta gialla sulle altre zone del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine sulla montagna friulana, situazione invece più tranquilla in provincia di Trieste questa la situazione per quanto riguarda l'allerta meteo, dando un'occhiata anche alla situazione in questo momento in Friuli Venezia Giulia vediamo che per il mattino le previsioni annunciano un cielo poco nuvoloso su pianura e costa variabile sui monti, qui vediamo le immagini dell'altopiano del Montasio dove è caduta un po' di neve nelle ultime ore possibili foschie, unebbie notturne, in giornata nuvolosità variabile, forse più persistente sulle prealpi dove nel pomeriggio non è esclusa tratti qualche piovigine, ecco qua invece le immagini del santuario del Monte Lussari il borgo di Monte Lussari, anche qui vediamo un po' di neve e il sole che sta sorgendo in questo momento dando uno sguardo anche alle temperature in montagna su Monte Lussari il termometro segna un grado e un decimo, due gradi e tre decimi a Tarvisio, cinque gradi e nove a Tolmezzo scendendo in pianura vediamo sei gradi e tre a Pordenone, sette gradi e un decimo a Udine nove gradi e mezzo a Gorizia, sulla costa a Trieste, in questo momento ci sono tredici gradi e otto decimi questo per quanto riguarda la situazione meteo in questo momento, le previsioni per la giornata di oggi poi come sempre in chiusura del nostro buongiorno Friuli, tutti gli aggiornamenti in diretta con i previsori dell'Osmerar poi vedremo anche le previsioni del tempo per il ponte del primo novembre andiamo a vedere anche come la situazione viabilità sulle principali arterie autostradali della nostra regione questa è la cartina che troviamo sulla pagina di Autovie Venete situazione tranquilla in questo momento, vediamo le icone che ci ricordano i cantieri nulla da segnalare fortunatamente, in mattinata, nelle prime ore del giorno è stata riaperta anche la 23, chiusa nella serata di ieri tra Pontebba e Carnia perché alcuni tronchi erano caduti nella zona dell'autostrada quindi la sicurezza della circolazione non era garantita l'autostrada è stata chiusa per tutti gli interventi di risistemazione il centro operativo autostradale ci ha confermato nella mattinata di oggi nelle prime ore di oggi la riapertura anche di questo tratto di autostrada e allora iniziamo adesso la nostra rassegna stampa c'è il maltempo in primo piano ma ci sono anche gli ultimi dati sul prodotto interno lordo del nostro paese rallenta la crescita queste le due notizie in primo piano sui quotidiani nazionali ma cominciamo con il maltempo il maltempo che ovviamente ha toccato molto da vicino il Friuli Venezia Giulia e non solo sui quotidiani nazionali vediamo in primo piano i danni causati dall'acqua alta in particolare alla Basilica di San Marco a Venezia ecco qua la fotonotizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere San Marco sott'acqua danneggiati i mosaici in un giorno la Basilica è invenchiata di 20 anni ha detto il procuratore di Venezia questa era la prima pagina del Corriere della Sera vediamo anche su Repubblica maltempo 12 morti a rischio i mosaici di San Marco questa è l'apertura di Repubblica ecco qua la fotonotizia poi andremo a vedere anche tutti gli altri titoli di apertura le principali notizie a livello nazionale però parlando di maltempo andiamo sui quotidiani locali e andiamo a vedere come la stampa locale ha raccontato questa ondata di pioggia e vento che ha devastato alcune zone del Friuli Venezia Giulia la Carnia in particolare ma non solo il gazzettino apre con questo titolo peggio del 66 un miliardo di danni le drammatiche cifre del governatore Veneto Zaia già centinaia di milioni ma il conto potrebbe salire blackout e fango aziende ferme nord-est in ginocchio allarme a San Marco basilica invecchiata di 20 anni e qui vediamo questa foto che ci mostra il Piave 10,93 è il livello limite raggiunto ieri dal fiume Piave ecco qua questa immagine il Mose ci dice il gazzettino è pronto al 94% progetti fatti male queste le parole del provveditore Linetti e poi vediamo a Belluno seconda vittima 73 mila ancora senza elettricità mancanza di corrente tanta acqua anche in Friuli Venezia Giulia vediamo l'apertura del fascicolo locale del gazzettino del fascicolo del Friuli incubo alluvione chiesto l'esercito la carnia in ginocchio Fedriga dice situazione emergenziale il sindaco di Comedians invoca i militari per il ponte crollato la giunta regionale ha varato ieri il primo piano finanziario da 10 milioni per intervenire nelle zone più colpite dal maltempo e questa è un'immagine del fiume Tagliamento che ha tenuto tutti in apprensione nella mattinata di ieri è stata una mattinata difficile in particolare alla Tisana dove si temeva per i livelli alti del tagliamento fortunatamente non è scattata l'evacuazione ce lo ricorda anche questo richiamo in prima pagina Tagliamento scongiurata l'evacuazione rimasta sotto la soglia di allarme la piena del tagliamento a la Tisana e poi in primo piano anche i tanti volontari della protezione civile tanti tecnici e volontari della protezione civile impegnati sul campo quasi 900 uomini schierati sul territorio queste le notizie in primo piano per quanto riguarda il maltempo sul gazzettino se andiamo nelle pagine interne vediamo anche alcune foto ecco qua Ponte Crollato la Carnia adesso invoca l'esercito il sindaco di Comeglian si ha rivolto un appello perché intervengano i militari lotta contro il tempo nella montagna friulana per ripristinare la corrente tante le situazioni di crisi e poi vediamo appunto una notte di terrore ma l'evacuazione è stata scongiurata a la Tisana andiamo anche sul messaggero il messaggero veneto di Udine l'edizione di Udine ecco il titolo di apertura i gravissimi danni a ponti e strade hanno spezzato in due la Carnia il crollo a Comeglian ha dato il colpo di grazia alla viabilità saltano luce e telefoni la regione stanzia subito 10 milioni e anche qui vediamo una notte di angoscia guardando il tagliamento e gli esperti dicono piove così ogni 30 anni raffiche di vento a 200 km all'ora allora cominciamo a sfogliare le pagine del messaggero veneto di Udine e vediamo anche qui quasi 20.000 frulani al buio interi paesi senza linee telefoniche la regione delibera un primo stanziamento di 10 milioni per avviare la ricostruzione problemi sull'autostrada A23 nella serata di ieri come abbiamo detto però prima è stata riaperta nella notte il peggio sembra essere passato ma i danni sono pesantissimi tra paesi isolati Sappada Fornia Voltri e Rigolato ponti crollati lunedì dopo quello di Ovaro ha ceduto anche quello di Comelians edifici scoperchiati linee elettriche telefoniche fuori uso frane allagamenti strade bloccate dalla caduta di centinaia di alberi il livello dei fiumi si è abbassato gradualmente anche se tutti i corsi d'acqua rimangono sorvegliati speciali il tagliamento dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso nella notte fino alla tarda mattinata di ieri è arrivato a 8,67 metri ma non è uscito dagli argini il Meduna ha allagato la frazione di Villanova e poi dicevamo delle tante linee elettriche che sono saltate in 23.000 rimasti senza elettricità sottolinea il messaggero Veneto nella serata di ieri il numero si era ridotto a 18.000 e quello che vediamo nella nella foto in alto il ponte crollato è il ponte di Comelians ecco qua nell'articolo il passaggio che dice che nella serata di lunedì è crollata una porzione del ponte sul torrente che si trova lungo la strada regionale 355 in comune di Comelians sul posto per un sopralluogo anche l'assessore il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi che con i rappresentanti dell'esercito hanno valutato il da farsi il manufatto già nei giorni scorsi era sotto osservazione da parte di FVG strade già individuato un percorso alternativo a monte rispetto al luogo del crollo dove c'è appunto un altro ponte gli esperti dicono piove così ogni 30 anni raffiche di vento a 200 km all'ora a Malga Chiampuz forni di sotto caduti 870 mm d'acqua vento record a Cimarest folate a 139 km sullo Zoncolan e qui poi vediamo alcuni alcuni dati che ci riassumono la quantità di pioggia caduta in questi giorni sulle montagne della nostra regione di spalla vediamo un appello lanciato dagli studenti migliaia di firme per chiudere tutte le scuole anche a Udine in casi di emergenza come questi a lanciare la petizione è uno studente di 17 anni del liceo scientifico Marinelli che punta a tutelare chi abita nelle zone colpite e che ovviamente in queste condizioni di tempo non può raggiungere le scuole che si trovano a Udine dove appunto l'attività scolastica è proseguita regolarmente senza interruzioni voltiamo pagina andiamo alla tisana ecco il tagliamento che si è fermato a quota 8 metri e 69 e la tisana può respirare anche perché il vento ha cambiato direzione l'Ibeccio invece dello scirocco scongiura l'esondazione alle 11 rientra l'emergenza dopo ore di ansia viaggio sul lungo fiume tra i ricordi degli anziani e il sospiro di sollievo dei tecnici ecco qua e poi un passaggio su i dati della protezione civile per quanto riguarda il livello di allerta dati falsati dal vento fanno scattare l'allarme notte di angoscia dopo i rilievi dell'idrometro a Venzone sballati dalle raffiche l'allarme scatta quando a Venzone il tagliamento supera i 4,2 metri di altezza per dare appunto l'allarme con 12 ore di anticipo rispetto alla piena del fiume a la tisana questo dato 4,2 metri era stato superato a Venzone però appunto l'evacuazione non è scattata proprio perché il dato era stato falsato dalle raffiche del vento ancora vediamo alcune immagini della montagna friulana la carnia è in ginocchio scrive ancora il messaggero si sgretolano i ponti e i paesi restano isolati in difficoltà anche le frazioni e il sindaco di Tolmezzo Brollo dice un piano straordinario con sghiaiamenti dei letti di fiumi e torrenti e taglio degli alberi ancora andiamo a vedere anche questo articolo che ci riferisce di un intervento del soccorso alpino sul passo di Monte Croce Carnico i tecnici si sono mossi per andare a verificare le condizioni degli anziani gestori della locanda aperta al valico ma isolata e poi voltando ancora pagina andiamo anche in Val Canale Canal del Ferro Martoriati e sull'Ussari è arrivata la prima neve abbiamo visto prima le immagini a chiusa forte in Val Raccolana Borghi senza corrente viabilità interrotta in diverse zone a causa di massi e smottamenti situazione molto difficile anche a Sappada a causa sia delle forti precipitazioni sia del forte vento il diluvio su Sappada scoperchi a 25 case cantine allagate baite spazzate via manca l'elettricità bloccato anche il campione di sci di fondo Silvio Fauner in grave difficoltà pure forni a voltri e poi vediamo appunto anche questa foto di questa abitazione dove il tetto è stato spazzato via dal dal vento andiamo in provincia di Pordenone ecco qua l'articolo mezza Pordenone sott'acqua all'alba poi i fiumi calano e l'allarme rientra allagate Villanova Vecchia la zona del parcheggio Marcolin il sindaco dice 80 famiglie in allerta ma sono rimaste a casa Pordenone si è risvegliata sott'acqua a Villanova Vecchia nella zona vicina al parcheggio Marcolin con 15 strade invase dalla piena del Meduna e del Noncello un'ottantina di famiglie minacciate e case cinte d'assedio a mezzogiorno i raggi del sole si sono fatti strada fra i numi del cielo livido e un'ora dopo il summit in prefettura anche l'allerta meteo da rosso è virata al più confortante raccione nel Friuli occidentale stamattina alle 10.30 sarà sciolta definitivamente la riserva e anche qui vediamo alcune immagini di Pordenone allagata il noncello tracima residenti in difficoltà ci dice questo articolo e poi vediamo anche alberi caduti vetri infranti e crolli per il forte vento questa è la situazione a Pordenone la vediamo richiamata ovviamente anche sulla prima pagina del messaggero veneto di Pordenone eccola qua Pordenone quartieri sott'acqua esondazioni strade allagate a Villa Novavecchie nell'area vicina al parcheggio Marcolin 3000 famiglie senza corrente situazione sempre drammatica in montagna saltano i collegamenti telefonici nell'alta Valcellina gravi danni alle strade e qui vediamo appunto una parte di Pordenone sott'acqua e c'è la disperazione soprattutto nelle zone della montagna pordenonese a Erto e Casso la disperazione del sindaco tutti al buio notte terribile e vediamo fiumi di fango a claute gli abitanti e come un piccolo vaiont dicono e qui vediamo anche qualche altra immagine proprio dalla provincia di Pordenone da claute fiumi di fango nelle case a claute i residenti un piccolo vaiont il vento ha scoperchiato una stalla con 400 mucche i vigili del fuoco ripristinano la copertura di una scuola materna e poi la strada regionale 251 a Barcis il Cellina si è mangiato la 251 tempi lunghi per la riapertura e qui vediamo anche una foto e poi a Erto la disperazione del sindaco tutti al buio una notte terribile chiudiamo anche il messaggero veneto di Pordenone e andiamo adesso anche sulle pagine del piccolo di Trieste e di Gorizia cominciamo con il piccolo di Trieste in apertura c'è la visita del presidente Mattarella nei prossimi giorni ma adesso ci concentriamo sul maltempo e vediamo la fotonotizia a centro pagina le onde devastano Sticco a Miramare surfista alla deriva da Umago a Sistiana salvo ecco qua la fotonotizia danni ingenti anche allo stabilimento balneare Sticco a Miramare andiamo a vedere l'articolo nelle pagine interne costa assediata per ore dalla mareggiata e a Miramare le onde devastano Sticco sradicati capanni eringhiere lettini volati in mare bar invaso dall'acqua danni per 80.000 euro nello storico stabilimento il gestore dice non ci resta più nulla super lavoro per i vigili del fuoco inviati anche in Friuli e questa è la notizia sul maltempo che troviamo sul piccolo di Trieste andiamo anche sull'edizione isontina di questo quotidiano qui invece in prima pagina vediamo la foto che ci arriva da Grado divorate le spiagge a Grado e Marina Giulia e anche qui vediamo surfista alla deriva dall'Istria a Sistiana è stato salvato un'incredibile avventura di un surfista partito da Umago dopo aver rotto la vela attraversato tutto il golfo ed è approdato a Sistiana è stato recuperato in stato di ipotermia ma è stato salvato e allora andiamo anche qui nelle pagine interne per vedere alcune immagini che ci arrivano da Grado il mare si è mangiato le spiagge di Grado i viali invasi dalle alghe solo per il litorale principale si stimano oltre 15.000 metri cubi di sabbia e rosi accentuato il fenomeno dell'acqua alta danni anche in Costa Azzurra e a Pineta le spiagge di Grado sono state torturate dalla forte ondata di maltempo la montare dei danni lo si conoscerà solamente fra qualche giorno l'allarme acqua alta grado è scattato sabato poi domenica la combinazione fra il forte vento di Scirocco e l'alta marea ha inalzato il livello dell'acqua che ha comunque soltanto lambito i punti più bassi dell'isola lunedì quanto temuto si è verificato i due i picchi la prima amareggiata alle 12 la seconda intorno a mezzanotte il mare si è letteralmente mangiato strati di sabbia le cabine sono volate via l'acqua alta non ha risparmiato il resto dell'isola tutto il centro la parte bassa del cuore storico e il rione San Vito colmata si sono trovati allagati e anche qui vediamo alcune immagini a Marina Iulia siamo a Monfalcone sciroccata da record spazza via Marina Iulia i danni ammontano a 500.000 euro questo per quanto riguarda il maltempo raccontato dai quotidiani di oggi ma andiamo a vedere adesso anche le altre notizie in primo piano sui quotidiani di questo mercoledì dicevamo prima vedendo il piccolo della visita a Trieste in regione del presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre a cent'anni dalla fine della grande guerra Mattarella Trieste pronta domenica stop alle auto in piazza unità sarà show inno cantato dal volo parata e frecce eccezionali misure di sicurezza due zone ben distinte una rossa di massima sicurezza e una che prevede l'interdizione solo al transito dei veicoli definiranno domenica 4 novembre il perimetro dell'area interessata alla cerimonia militare per le ricorrenze del giorno dell'unità nazionale della giornata delle forze armate che vedrà presente a Trieste il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi sulle pagine interne del piccolo anche qui abbiamo tutto l'articolo che fa il punto sulla visita di Mattarella in regione in particolare a Trieste Mattarella sarà anche al sacrario di Re di Puglia ecco qua piazza unità blindata per Mattarella di Vieti alta i mezzi varchi pedonali in caso di maltempo salone degli incanti location d'emergenza per tutte le celebrazioni e poi invece andando sulle pagine interne del piccolo di Trieste vediamo sulla prima pagina della cronaca locale baratto comune verdi le ruspe a un passo dalla sala Tripkovic pronta la permuta che consentirà al municipio di riavere dalla fondazione teatrale la vecchia stazione bus in cambio di un deposito per scenografie alle noghere rimanendo sul piccolo andiamo a vedere anche i titoli di apertura delle pagine di Gorizia e Monfalcone in primo piano a Gorizia vediamo un intervento del sindaco Ziberna in materia di sanità da solo l'ospedale non ce la fa con Trieste rimane in piedi il sindaco Ziberna difende la riforma per la prima volta dopo 5 anni di tagli potenziamento garantito il capogruppo dei dem rossi parla di diktat del capoluogo nel Monfalconese invece vediamo in prima pagina il 4 novembre un omaggio ai caduti che dopo cent'anni continua a dividere italiani austro-ungarici sloveni ciascun comune celebra le proprie vittime ricordando una storia diversa eppure uguale poche comunità hanno riscattato il colpevole oblio dei bisiacchi nell'esercito austriaco uno dei passaggi salienti dell'articolo chiudiamo il piccolo adesso torniamo sul gazzettino del friuli andiamo a vedere anche qui le altre notizie richiamate sulla prima pagina del fascicolo locale vediamo di spalla azzardo comuni ancora a rilento si parla delle iniziative per l'applicazione della legge regionale che contrasta il gioco d'azzardo e poi il sindacato dei pensionati della CGL un tavolo di confronto sugli anziani è quanto chiede appunto il sindacato nel taglio basso Fedagri Pesca tutelare i delfini ma anche i pescatori dice Fedagri Pesca e poi per lo sport l'udinese prende troppi gol sotto accusa la difesa tra poco andremo sulle pagine sportive dei quotidiani locali sempre sul gazzettino del Friuli a Udine palazzetto dello sport pronto in tre anni di lavori tanto ci vorrà per rendere per il nuovo palazzetto dello sport a Udine e poi il caso delle poesie in strada contro lo spaccio un'iniziativa che fa già discutere a Udine in via Roma ma non solo e poi per la pagina degli spettacoli il vero regghi anni 90 nelle sonorità di Papa Winni questa sera a trecesimo chiudiamo il gazzettino del Friuli e andiamo adesso sulle pagine del messaggero veneto di Udine vediamo nel taglio alto questo articolo che ci dice delitto Tulissi arriva la svolta dopo dieci anni a dieci anni esatti dall'omicidio di Tatiana Tulissi freddata con tre colpi di pistola a Manzano è in arrivo una svolta nell'inchiesta secondo il messaggero Veneto la procura di Udine starebbe per chiedere il rinvio a giudizio di Paolo Caldigaris sommicidio Tulissi la procura vuole processare Caldigaris l'inchiesta verso la richiesta di rinvio a giudizio della loro compagno di Tatiana a settembre un altro sopralluogo in villa e l'ultimo interrogatorio dell'imprenditore il PM Marco Panzeri pare avere deciso per la richiesta di rinvio a giudizio questo almeno è ciò che è stato comunicato ai suoi difensori scrive il messaggero le notifiche non sono ancora partite e la procura non si sbilancia le indiscrizioni riportate dal messaggero veneto e poi andiamo a vedere anche gli altri titoli andiamo nel taglio alto si parla dei lavori in via mercato vecchio belle arti ok al progetto e il partito democratico chiede un referendum sulla zona a traffico limitato questo è l'articolo che apre le pagine del messaggero veneto di udine eccole qua cambia il progetto di mercato vecchio c'è il primo via libera delle belle arti fontanini subito la modifica per mantenere una parte della via in porfido e consentire così il passaggio del bus o del tram del tram scusate poi sempre nel taglio alto vediamo una notizia di cronaca rubano la cassaforte colpo da 30 mila euro e poi la scomparsa di primo blarzino fondatore della cna aveva 98 anni nel taglio basso un po' di storia con Gianfranco Ellero che ci porta ovviamente a cent'anni fa il Friuli rimasto senza una lira stampò i buoni e poi il Gambero Rosso i nostri chef sempre al top tra questi Emanuele Scarello questa era la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine prima di fermarci per un attimo di pubblicità e andare a focalizzare la nostra attenzione sui quotidiani sportivi andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani nazionali che oggi non abbiamo visto in apertura avevamo detto che le due notizie del giorno erano al tempo e la frenata del PIL ecco il titolo di Repubblica frena il PIL crescita zero nel terzo trimestre economia in stagnazione c'è il monito dell'Unione Europea il debito minaccia l'Eurozona via libera delle ferrovie all'offerta sull'Italia per quanto riguarda la TAV scontro in Piemonte tra Movimento 5 Stelle e Leghisti dopo tre anni di crescita l'economia italiana si è fermata per l'Istat il PIL del terzo trimestre 2018 è al palo e lo stallo rende un miraggio il più uno e mezzo per cento previsto per il 2019 nuovo monito di Bruxelles sul debito e poi vediamo un'altra notizia sempre sulla prima pagina di Repubblica scheletro nell'annunziatura l'ultimo giallo del Vaticano si farà l'esame del DNA su queste ossa ritrovate in un edificio di proprietà del Vaticano annesso all'annunziatura gli inquirenti accerteranno se i resti possono essere compatibili con il DNA di Emanuela Orlandi o di Mirella Gregori le due minorenni scomparse a Roma nel 1983 nell'annunziatura infatti ha lavorato l'unico monsignore indagato per il caso Orlandi questa era la prima pagina di Repubblica andiamo a vedere velocemente anche gli altri titoli vediamo anche il Corriere in apertura così la crescita si è fermata PIL allo 0% nel trimestre non avveniva da oltre tre anni Bruxelles chiede chiarimenti sul debito alto e poi da Ferrovie l'offerta per Alitalia ancora solo i titoli di apertura del manifesto come prima più di prima qui si parla delle nomine Rai ecco il titolo del manifesto con le nomine di oggi prende forma la Rai del cambiamento vecchia spartizione ma solo tra i partiti di maggioranza con un occhio a Forza Italia Tg1 e Tg3 ai 5 stelle Tg2 e Tgr alla Lega rinvio per le reti la nomina dell'autore della prova del cuoco complica l'intesa vediamo anche la prima pagina del giornale che titola Governo in bilico botte tra Lega e Grillini la fronda in Guaia di Maio rissa sulla Tav il carroccio molla la raggi e diserta il vertice industriali in rivolta lettera dall'Europa Forza Italia in ripresa scrive il giornale centrodestra al 46% vediamo anche Libero l'Italia è ferma un pil sullo stomaco l'economia è cresciuta negli ultimi tre mesi dello 0% guai per Movimento 5 Stelle e Lega la manovra si basa su previsioni di sviluppo inesistenti va riscritta come ci chiede ancora l'Europa andiamo a vedere anche la prima pagina del sole 24 ore che ovviamente apre con il pil pil a 0 Italia ferma nel terzo trimestre lo spread torna a 312 e con questa notizia noi chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa adesso come sempre un po' di pubblicità e poi ci concentreremo sulle notizie sportive di oggi ci rivediamo tra poco un po' di pubblicità un po' di pubblicità